Non c'è ancora l'ufficialità ed eventualmente arriverà non prima del prossimo weekend. Tutte le strade relative al prossimo allenatore del team Altamura però portano a Domenico Giacomarro. Il casting che riguarda il nuovo timonire dei Murgiani dunque sta per terminare e la scelta sembra proprio ricaduta sul tecnico siciliano colui che ha scritto al termine della stagione 2018-2019 la storia del Picerno ottenendo la prima promozione del club lucano in Serie C. Quasi trentennale la carriera di allenatore cominciata nel lontano 1997 alla guida del Ragusa. Unica parentesi in Puglia nella stagione 2017-2018 a San Severo prima del biegno trascorso proprio a Picerno. Vittoria della Serie D al primo anno salvezza in C in quello successivo. Domenico Giacomarro dunque salvo clamorosi colpi di scena sarà lui a spuntarla. Rappresenta una priorità della dirigenza murgiana che lo ha inserito sin da subito nella lista dei profili di gradimento insieme a Nicola Ragno poi confermato a Nardò, Giuseppe La Terza in procinto di firmare per il Casarano ed Antonio Rogazzo, l'allenatore quest'ultimo che ha guidato i bianco-rossi nel segmento conclusivo della più recente stagione terminata con la mancata partecipazione ai play-off. L'obiettivo confermato di recente a Telesveva dal direttore generale Nico Squiccerini è quello di puntare un campionato di vertice, la volontà di conseguenza e quella di provare a trattenere i pezzi più pregiati della scorsa rosa a partire dagli attaccanti del team Altamura. Ma questa è tutta un'altra storia e verrà approfondita solo dopo l'annuncio ufficiale di Domenico Giacomarro come allenatore.